In occasione dell'Uerfest, il teatro della città, a Popoli è stato presentato il libro di Giampiero di Federico La vita è fredda, pensieri, dialoghi, immagini, video e lettura di brani sullo sfondo di una scenografia evocativa tra tende rosse, attrezzature e abbigliamenti alpinistici per sopravvivere alle altissime quote imalaiane. La vita è fredda si chiama così perché c'è stato un episodio abbastanza, diciamo, commovente. C'era un ragazzo che veniva da me al mio rocciodromo, che è una parete di arrambicata indoor e questo ragazzo vedevo che scalava un po' legnoso, un po' impacciato ed è abbastanza normale per tutti all'inizio però vedevo che man mano che continuava peggiorava la situazione. Allora mi sono fatto coraggio e ho detto ma perché, cosa succede, hai qualche problema? Sì, sì, Giambiero, io ho un grave problema, ho una malattia ai muscoli e quindi fra un po' dovrò andare in carrozzella e poi fra un po' di tempo non mi vedrai più. La vita per me è stata fredda. Aveva 21 anni questo ragazzo, aveva già maturato alla sua filosofia di vita e sapeva bene che la sua vita sarebbe stata brevissima. Da anni di Federico impegnato nella difesa delle montagne dal degrado ambientale, per questo ha partecipato a diverse iniziative ecologiche. Per la sua scesa di sette ore in solitaria sulle pareti nord-ovest del Gashrbram, il 14 luglio 1985 è stato definito il più veloce salitore su una via nuova ad un 8000. La sintesi del libro è un po', sono tutta una sorta di autobiografia delle mie scalate in tutte le parti del mondo ma anche delle riflessioni, non sono un filosofo, però insomma delle riflessioni che mi sono venute spontanee durante tutti questi viaggi, durante queste esperienze anche di vita dove si rischia comunque, rischiando la mente diventa un po' più lucida, più concentrata. È un libro assolutamente completo, io lo consiglierei addirittura nelle scuole, alle scuole questo libro perché fa avvicinare molto, secondo me, i giovani alla passione per la montagna, quindi è un libro assolutamente da leggere. Gian Piero attraverso il racconto, la narrazione delle sue esperienze, in realtà scava l'animo umano confrontandosi con una serie di elementi che vanno dalla paura al rischio, al pericolo, alla gioia, al dolore di aver perso degli amici e questo raccontare la montagna, il suo alpinismo, in realtà è un suo modo di parlare della vita che ci riguarda tutti, che riguarda tutte le persone.